Sono Barma Capurì, il primo oratore della scuola del mondo. La scuola è un'istituzione di carattere sociale che attraverso una didattica strutturata ed organizzata tende a un'educazione, un'insegnamento umano e culturale e quindi oltre ad insegnare in modo più o meno approfondito diverse discipline, insegna ad essere persone e a vivere in società. Ma mi chiedo e ci chiediamo, e questo è quello che fa veramente la scuola, cioè fornisce veramente gli strumenti necessari per formare dei cittadini consapevoli, consapevoli oltre che della società in generale anche di argomenti importanti come quello del cambiamento climatico. Ecco, noi crediamo che non lo faccia, o meglio, lo fa ma non nei tempi come modi e come mezzi giusti. Infatti, i ragazzi conoscono le percentuali di emissioni globali, sanno che la Cina è il paese che inquina di più e che in Asia ci sono le città più inquinanti del mondo. Però cosa sanno altro? Cos'è che, cosa la scuola ha insegnato loro di concreto e che possa veramente aiutare l'ambiente? Questo argomento viene spesso trattato non perché è considerato necessario in quanto il cambiamento climatico, in gente, pericolo, ma solo perché viene considerato, ma solo perché è previsto dalla legge e proprio per questo viene trattato in modo generale, insomma, non affrontato come un problema che ci riguarda in prima persona. E questo è un errore, perché questo è un problema che ci riguarda tutti allo stesso modo. E dopo è proprio per questo che la scuola deve sostenere gli studenti a sviluppare competenze basilari come quell'aspetto che Goffman chiama l'intelligenza ecologica. L'intelligenza ecologica è la consapevolezza delle ripercussioni delle nostre azioni sull'ambiente. In senso ampio, l'intelligenza ecologica è il risveglio della consapevolezza del margine di potere individuale e collettivo dell'influire delle nostre azioni sulla società. Ecco, la scuola non fa nulla di tutto questo, anzi non è nemmeno in grado di insegnare agli studenti concetti basilari riguardo al cambiamento climatico e alla sostenibilità. E questo lo sappiamo e possiamo confermarlo perché noi stessi abbiamo condotto una ricerca, un sondaggio tra alcuni studenti del nostro liceo. E il 96% dei ragazzi intervistati ha risposto che le conoscenze che possiede riguardo al cambiamento climatico le ha acquisite autonomamente attraverso i mass media. E con questo non vogliamo affermare che la scuola non insegna nulla agli studenti. Lo fa però non in modo efficace. Il suo metodo non è efficace, perché se lo fosse gli studenti si ricorderebbero di quello che insegna. E in più manca proprio il collegamento tra i concetti astratti e gli atteggiamenti concreti che coinvolgono i ragazzi in modo corretto. E questo capita perché la scuola è statica, non cambia, e insegue il cambiamento. Ma se vuole essere efficiente, la scuola non deve inseguirlo, ma deve prevederlo. Grazie.